Siamo giunti al termine di questo anno liturgico, pronti per affrontarne uno nuovo, sempre con la sorpresa e con l'amore che Dio ci dona tutte le settimane e tutti i giorni della nostra vita. Noi ritroviamo ovviamente ogni settimana padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista. Buona Pasqua della settimana e buona domenica. E buona festa di Cristo Re, visto che oggi è il compimento del ciclo. Esatto, esatto. Gesù Cristo non ci educa alla rassegnazione ma alla responsabilità, alla partecipazione. È un Dio che non vuol fare più niente da solo. A te. È una cosa molto bella. Io oggi darei un titolo a questa solennità di Cristo Re, facendo nostra la preghiera di questo malfattore, che non è un pregante qualunque. Fa parte di quella categoria degli zeloti, gente che combatteva con le armi contro i romani. E noi lo chiamiamo bonariamente il buon ladrone, ma non è un ladrone, è un malfattore. È un cacurgos, dice il testo di Luca. Ma ci lascia una preghiera, cara Anna Maria, che io faccio sempre all'inizio della Messa. Quando dico ai fratelli e alle sorelle, riconosciamo i nostri peccati, io nel mio cuore faccio sempre questa preghiera del malfattore. Gesù, ricordati di me. Dove c'è una tenerezza, lo chiama Gesù, non lo chiama Cristo, non lo chiama Dio, non lo chiama figlio di Dio, ma lo chiama col suo nome umano, di quella umanità che il figlio di Dio ha voluto prendere. Gesù, Yeshua, che poi significa Dio salva. E poi questo ricordati di me. Non gli ha detto perdonami, non gli ha chiesto per favore abbi pazienza con me. No, gli ha detto solo ricordati di me. E in questa preghiera davvero, amiche e amici, c'è, come dire, una sorta di sintesi di tutto il Vangelo di Luca, che è il Vangelo della misericordia, perché Gesù è il volto misericordioso del Padre. Che possiamo dirgli a quel Cristo sulla croce se non dirgli ricordati di me, Gesù, ricordati di me, ricordati di tutti quanti noi. Oggi, al termine del ciclo, siamo arrivati sul Golgotha, Golgotha, luogo del cranio, dove Luca non ci narra una cronaca dell'evento, piuttosto vuole leggerci questa teologia della croce. Qui Luca è davvero discepolo del grande Paolo di Tarso, San Paolo, il grande autore della teologia Crucis, dove nella prima lettera dei Corinti, nel primo capitolo, ci dà una lezione meravigliosa. E sono importanti i particolari che Luca dà. Luca non interessa tanto il vino mescolato con la mirra, i malfattori, dirne che uno è buono e l'altro è cattivo. No, no, Luca mette davanti un'espressione densissima, questa che vi ho detto. Padre, già Gesù ha usato un'espressione, Padre, perdona loro, infatti non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E' questo malfattore che dice, Gesù, ricordati di me. E un altro particolare interessante al versetto 48, tutte le folle accorse a questo spettacolo, il testo greco parla di teoria, contemplati gli avvenimenti, teoresantes, ritornavano battendosi il petto. Le folle che hanno partecipato e hanno visto questa crocifissione hanno un gesto penitenziare. La croce li converte, la croce è parola di salvezza, veramente qualcosa di incredibile. E davanti a quel monito, quella continua persecuzione di Gesù, salva te stesso, salva anche noi. C'è questa tentazione che ritorna. L'abbiamo vista nelle tre tentazioni del demonio al capitolo 4. Qui tornano i capi, i soldati, l'altro malfattore. Credono che la salvezza sia la capacità di scampare dalla morte ormai imminente. Non hanno capito che la morte va attraversata. E che Gesù non è stato crocifisso da noi, ma ha voluto attraversare la morte, anche per darci il coraggio di un attraversamento della vita, che qualche volta è morte, ma chi non muore non risorge. Chi non attraversa questa vita e quel famoso casello di cui parlavamo domenica scorsa, non entra in questa vita altra che il dono del Signore. Ecco perché il crocifisso di Luca non sta in silenzio. Parla. Parla al padre. Parla alla folla. Parla a questo malfattore che veramente sente l'amore di Gesù. Ma la prima parola, ancora una volta, Gesù la rivolge alle donne. Ancora una volta l'importanza delle donne nella vita di Gesù. Gesù ha fatto una rivoluzione con le donne. Quella che ancora oggi manca, dove veramente anche nella Chiesa abbiamo paura di lasciare che le sorelle, le madri, stiano al nostro fianco e possano insieme condividere le responsabilità di una Chiesa. Dobbiamo ancora imparare ad essere una Chiesa sinodale. Ha ragione Papa Francesco. Ebbene, le donne dicevano questa frase di Gesù, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Parole meravigliose, ricche, non di condanna, ma un'esortazione continua, un invito alla conversione. Ecco perché vorrei dire una cosa fondamentale, lo dico sempre anche in Quaresima. La via crucis non è una via che deve essere vissuta con emotività, con devozionismo, con pianti sui dolori del Cristo. La via crucis è una via di conversione, per recuperare una rettitudine della mente. La via crucis è una via lucis, cioè una via che porta alla luce, perché se contempliamo i dolori del Cristo è perché dobbiamo convertire. Ecco perché dopo aver parlato alle donne, la seconda parola è per i crocifissori, perché non si rendono conto. Gesù non solo perdona, ma discolpa. Non muore minacciando il giudizio di Dio. Gesù muore perdonando, scusando, ed è un perdono universale, perché anche la passione in Luca è attraversata dalla misericordia e dimostra che ancora una volta la sua salvezza è diversa da quello che sognano i capi, i soldati, i malfattori, e forse anche noi. Per cui dovremmo fare nostra questa preghiera. Gesù, ricordati di me. Ed è bella questa sicurezza. Amen. Io dico a te, oggi sarai con me, nel paradiso, nel giardino. E' molto bella questa frase di Gesù, che non chiede a Dio, ma garantisce una vita di comunione con Lui. Oggi sarai con me. Oggi non è una questione di tempo, ma è di persona. Quell'oggi è Cristo. Ogni volta che Lui si affaccia nella nostra vita, Lui è con noi. Ed è in paradiso. Quel paradiso, paradisos, che viene dal persiano, che indica proprio il giardino. Quel giardino che nel Genesi era stato preparato. Anzi, i padri medievali dicono che quel giardino è Cristo stesso. Il grande San D'Ambrogio scrive così nel suo commento proprio a Luca. Colui pregava che il Signore ci ricordasse di lui quando fosse giunto nel suo regno. Ma il Signore gli rispose, Amen, Amen, io dico a te, oggi sarai con me, nel paradiso. Che cosa è la vita? È stare con Cristo. Perché dove c'è Cristo, là c'è il regno. In vita e in morte è importante stare con Lui, accoglierlo nella nostra vita, facendolo con gioia, come ha fatto Maria, come ha fatto anche un peccatore incaldito come Zaccheo. Ma l'importante è stare con Lui. Questo è il paradiso. Ecco perché inizia già qui. Noi possiamo già qui, nella forza dello Spirito, stare con Lui. Questa è allora la solennità di Cristo. E questo è l'augurio che io vorrei fare a tutti quanti, le nostre amiche e i nostri amici. Stare con Dio. Perché se Lui sta con noi e noi stiamo con Lui, la vita è perfetta. E il paradiso inizia già qui. Beato, chi veramente vive questa realtà, che è la realtà dell'amore, di cui parlavamo domenica scorsa. E noi facciamo il tesoro della Tua preghiera che diventerà nostra. Gesù, ricordati di noi. Molto bello. Facciamola oggi come una sorta di giaculatorio. Gesù, ricordati di me, Gesù, ricordati di noi. Perché veramente possa allargare il nostro cuore e darci una grande speranza. Non stiamo andando verso lo sfacero. Non ci stiamo massacrando. Ma il Signore ci sta preparando una vita diversa. Ma dobbiamo già cominciarla qui. Per quello che c'è possibile, rendiamo migliore questa storia perché possa anche questa storia nel travaglio del tempo portarsi a compimento e accogliere il progetto di Dio. È l'impegno che ogni cristiano ha nella storia di trasformarla, di aiutare questa creazione e questa storia a vivere il progetto di Dio nel quale siamo anche noi. Per questo il vero cristiano è anche un vero cittadino. È una persona responsabile. È uno che per quello che può anche un piccolo passo per la salvaguardia del creato, della storia, dei più deboli, dei più poveri. Fa sempre un passo. Prende sempre iniziativa. C'è una frase molto bella di Papa Francesco che dice la Chiesa fa sempre il primo passo. Ecco perché è madre. Le mamme fanno sempre il primo passo. È l'augurio che vorrei fare a tutti quanti noi di essere un po' più mamme perché davvero la mamma ha sempre a cuore la sorte del figlio. La Chiesa è madre, la Chiesa è davvero la casa dove ognuno di noi può trovare accoglienza, ristoro e salvezza. Vero, verissimo. Grazie Padre Ernesto anche per oggi. Noi ci troviamo all'anno nuovo domenica prossima. Sì, al nuovo ciclo che sarà poi la lettura di Matteo quindi ci troveremo alla fine del mese proprio alla fine di novembre fino a novembre credo l'inizio di dicembre con la prima domenica di ammunti riprendiamo il cammino ma ricordandoci di quella scala a chiocciola si spera che cominciamo il ciclo A stando un po' più in alto rispetto a tre anni fa perché davvero la vita sia progressiva e continua nella morte. Bene. E Gesù è il Cristo re dell'universo che innaffia di speranza ogni nostra situazione ogni nostra giornata e allora buona Pasqua della settimana a te buona Pasqua a voi e vorrei salutarvi con il versetto del Salmo che leggiamo oggi 121 Oh l'allegria all'udire l'annuncio andiamo andiamo alla casa di Dio che ci ricorda quella andiamo andiamo dei pastori verso la grotta ancora una volta vedete il viaggio è verso Gesù verso l'alto Shalom e verso l'alto e